Non è che non funziona bene l'auto, Roberto, ciao, è semplicemente che io seguo la parola per te, capisci? Grazie, grazie, grazie tanto. Ecco, sei collegato dal Saudi, dove, insomma, ti vediamo... Collegato dal Qatar, sì, perché tra un po' è stata la Coppa d'Asia. Ah certo, c'è la Coppa d'Asia e quindi sei collegato dal Qatar, con la divisa inconfondibile del tuo nuovo ruolo, ma noi qui, per noi sei il nostro Bobby Goal e poi ovviamente Tommaso, anche il Citi che ci ha portato a vincere gli europei, nonché il gemello... Vanno celebrare la più ripresa in quell'europeo questa sera, Roberto, ma io però la prima domanda che ti faccio è questa super coppia di Allimancini, quando inizia, te lo ricordi, quando è iniziato tutto? Beh, inizia tutto sul treo che ci portava al commerciale. La prima volta che ci siamo visti, lui giocava al Cremonesi, io giocavo già la Sampo e questo treo ci portava a Corciano, 3-1-1, e io iniziai a parlare con lui della Sampo e quindi iniziai a dirgli, ma perché non viene la Sampo? Lui stava facendo benissimo la Cremonesi, così io non viene la Sampo, perché faremo una grande squadra, che era un grande presidente, vinceremo il campionato, così, quindi quella è stata la prima volta che ci siamo visti, che siamo parlati, perché ci conoscevamo solo perché lui giocava nel Cremonesi e io nella Sampo. Senti, Roberto, tu hai raccontato che...